Cagliari, solo terapie per Sau. L'attaccante, uscito dal campo durante la sfida contro il Napoli, è fermo ai box. Gli esami strumentali hanno evidenziato una elongazione all'aduttore della coscia destra, si legge nel report medico del Cagliari. La buona notizia è che non bisogna fare i conti con una lesione muscolare, possibile dunque un recupero nell'arco delle due settimane di sosta. Terapie anche per cranio, affaticamento al retto femorale della coscia destra. Cossu e Melchiorri. Lavoro personalizzato invece per il tandem Raffaele Cepitelli.